gli artisti contemporanei hanno adottato un ventaglio di tecnologie tra le quali film audio video e il digitale per produrre opere che usano immagini in movimento e hanno la durata come tematica centrale il tempo è alla base di tutta la video arte ma l'opera della durata di 24 ore the clock di christian mercley verte sulla concezione stessa del suo scorrere si tratta di un montaggio di clip cinematografiche e televisive che è anche un orologio funzionante viene visualizzato ogni minuto del giorno tratto da filmati ripescati che includano un orologio da polso o da parete l'ora che si vede è sempre sincronizzata con l'ora locale in modo che lo spettatore possa usare the clock come un orologio una squadra di ricercatori collaborò con lui per recuperare i frammenti estremamente specifici richiesti per realizzare l'opera e ci sono voluti tre anni per montare e assemblare il materiale nel video finale un concentrato di 100 anni di storia del cinema l'opera affronta il modo in cui la trama e il tempo vengono rappresentati nei film e presenta scene di ogni genere da inseguimenti in auto reparti ospedalieri e sparatorie a banali scene di vita quotidiana inclusi alcuni splendidi momenti umoristici sebbene sia un collage the clock mostra uno sviluppo che segue i ritmi quotidiani di notte i personaggi bevono e sono colti in momenti di intimità nelle prime ore del mattino dormono o sognano poi si svegliano e fanno colazione e l'azione si struttura in un crescendo che culmina a mezzogiorno con un filmato tratto da mezzogiorno di fuoco quindi le figure si affrettano per prendere il treno o lo perdono cenano e in orari adeguati vanno a concerti a mezzanotte compare un frammento del film vi per vendetta che mostra l'esplosione del big bang la famosa torre di londra quando fu proiettato nel 2010 presso la white cube gallery di londra the clock ricevette il plauso della critica e nel 2011 in occasione dell'assegnazione del prestigioso leone d'oro della biennale di venezia christian merclay ringraziò la giuria per aver premiato l'opera dandogli i suoi 15 minuti di fama se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando